La Corte di Cassazione ha confermato le accuse e quindi la condanna per omicidio colposo a un anno e quattro mesi nei confronti di Marco Maffessoli, l'allora presidente dell'Associazione Croce del Papa, dicevo, che aveva presidato ricorso contro la condanna in appello. Nella sentenza della Suprema Corte si legge che è pacifico e non contestato che il crollo di parte della Croce del Papa è avvenuto a causa del pessimo stato di conservazione del legno, in particolare per la presenza di zone con diffusa marcia scienza e che una periodica verifica avrebbe potuto evidenziare l'elevato grado di umidità all'interno del legno. Il 24 aprile 2014, attorno alle 13, la Croce di Enrico Job sul dosso dell'Androla Acevo all'improvviso si spezzò in due tronconi. Le braccia con la statua del Cristo crocifisso cadendo a terra colpirono Marco Gusmini, ventenne loverese, che si trovava lì con gli altri amici dell'oratorio di Lovere per una giornata di festa e preghiera in preparazione alla canonizzazione di Giovanni Paolo II, che si è poi tenuta a Roma il giorno successivo. Marco perse la vita sul colpo. Le indagini avevano riguardato vecchi e nuovi amministratori, la dita costruttrice, il direttore dei lavori, il progettista e soprattutto l'associazione Croce del Papa con l'intero consiglio. Nel corso delle indagini preliminari e quindi nelle varie fasi processuali, alcuni indagati uscirono subito dall'inchiesta, altri vennero inviati a giudizio. L'ex sindaco del periodo in cui venne eretta la croce Mauro Bazzana venne assolto e totalmente scagionato. Altri, come l'attuale sindaco di Cievo, Silvio Citroni, patteggiarono la pena. Per l'associazione Croce del Papa, l'unico imputato attualmente è presidente dell'associazione che ha deciso di correre in Cassazione contro la sentenza dei giudizi in appello. Nella stessa sentenza si legge ancora che non risulta che il comune di Cievo avesse di fatto assunto su di sé iniziative di manutenzione della Croce del Papa, cosicché gli organi dell'associazione non potevano fare alcun ragionevole affidamento sul fatto che l'ente comunale assolvesse agli obblighi gravanti per statuto sull'associazione, in quanto il comune si occupava solo della manutenzione del verde situato nei pressi della Croce trattandosi di verde pubblico. Ora, ma Fessoli è accusato di aver trascurato il compito primario di manutenzione, come si legge nella sentenza della Cassazione, che per questa ragione lo ritiene responsabile.